Salve a tutti e bentornati con un'altra parte di Pokémon Light Platinum, mi stavo inceppando all'inizio del discorso, per fortuna non è successo nulla. Oggi affronteremo la palestra di Rebecca, tipo volante, seconda palestra di questa regione. Let's go! Wow, bella! No, non mi direi che ci stanno tipo le pedane, quelle che si muovono, ti prego, ti prego no. Useremo ElectriWire in questa palestra, ElectriWire only, perché Dragonite è quasi al 70, anzi, sapete cosa faccio? Uso Dragonite, lo faccio arrivare al 70 e poi switch ElectriWire. E infatti sì, ci sono le pedane. Oddio! C'è una persona su Schermory, una su Altaria, ma che ficata! No, vabbè, ma questa Chrome è la Chrome. Cioè, guardate, pure nella... Oh, mio Dio! Questa Chrome è... 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 è fenomenale. Vai, stai a livello 70, dai, così posso usare ElectriWire. Ah, vabbè, giustamente. Dovrò usarti anche con Altaria. E ciao, subito, subito. Vabbè, con te uso Geloraggio, dai. Mamma mia, guarda... che bello, Dio! Cioè, hanno unito Altaria, che è il mio Pokémon preferito di Owen. Andatevi a vedere la Top 5 per saperne di più. Più un allenatore... cioè, quello potrei essere io, sarebbe una gran figata. Guardate quanto è bello, guardate quanto è bello. Cioè, a me dispiace in questo momento star per premere Ice Beam, ma devo farlo. Che è 4x, sono cattivo, ma devo farlo. Mi dispiace, Altariuccio. Levelo 70. Ok, ora che Dragonet è arrivato a 70, è finito quindi il suo allenamento. Possiamo switcharlo e usare ElectriWire, che useremo per tutta la palestra adesso. E andiamo di qua. E ci sono altri Schermori, altri Altaria, li affrontiamo tutti, ovviamente. Boom, ciao. Perfetto. No, non di qua, non volevo andare di qua. Voglio affrontare l'altro allenatore. Sì. Sì, voglio allenarmi. Zam. No! Oddio, Dragodanza, Dragodanza. Non si scherza, non si scherza. Ok, livello 66 per ElectriWire. Dai, una marcia in più per affrontare il capo palestra. Anzi, la capo palestra. Aspetta, ora non posso però andare da quella parte. Che maledetti che siete. Aspetta, ok, ecco, mi sembrava già strano. Ti ho affrontato, no? Sì, ok. E rifacciamoci la strada. Eh, ho sbagliato. No, l'ho fatta bene. Perfetto, perfetto, perfetto. Non ho detto nulla. Non ho detto nulla. Salamence! Oddio, guardate che figata i poster con le nuvole che ci sono dietro di lei. Fighi, proprio fighi. Ciao, Rebecca. Vai con la seconda lotta in palestra della regione di Lore. Non mio Dio, sono eccitato. Staraptor! Si parte subito la grande Thunderbolt in your ass. Bye bye, bitch. Hunchcrow. Ah, yeah! Chi è che usa Salamence? Sì. Per Salamence sì. Avrei potuto cambiare e usare un Pokémon con mossi ghiaccio. Ma voglio farla tutta con Electriver, come ho già detto. Voglio fare Electriver only. E lui mi usa Flamethrower. E ti faccio un altro Thunderbolt e ciao. Perfetto. Non è stato difficile. Sono facili le valessere di questa regione, però. Dannazione. Troppo poco tempo ci mettiamo. Una vittoria impressionante. Ecco la Sky Badge. Thank you, Rebecca. Ora possiamo usare Glide. Non mi ricordo cosa sia. Però va bene. Ah, Glide c'è. Adesso quindi... Aspetta. Uh, quindi adesso possiamo tipo prendere il volo da quel picco che c'è nella... Uh, abbiamo la licenza di piloti! Che figata! Quindi ora possiamo prendere il volo! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Che figata! Non ce la faccio. Veramente. Troppe emozioni. Troppe. Le feels mi stanno prendendo. Che questa Chrome è... È fenomenale. Devo subito provarlo. Devo subito provarlo. Prima però ci andiamo a curare. Si sbrighi! Ho un volo da fare! È una licenza da usare. E altre sei medaglie da conquistare. Ma questo... Un altro discorso quello, dai. Eh, ok. Dov'è? Dov'è il picco? Dov'è il picco? Dov'è il picco? Ok, ci siamo. Quindi dovrei insegnare tipo la mossa. Sì, calmo, calmo però, eh. Ok, bag. Un secondo che mi prude. Eh, una chiappa. Sì. Sono molto fine. Chi può impararla? Dragonite e Charizard. Io la do a Charizard. Al posto di... Glide c'è potenza 80. Al posto di Slash. Ah, non giusto. Devo fare tipo... Pokémon. Charizard. No, non c'è la Glide. Che devo fare? Aspetta. Puoi volare qui con il tuo Pokémon. Sì. È quello che vorrei tipo fare. Non capisco come dovrei fare tipo questa cosa. Ma davvero non lo capisco. Uffa però. E ora che devo fare? Oh, damn. L'avete preso in giro per l'ultima volta. Ma seriamente cosa dovrei fare adesso? Un attimino. Vedo un attimo la mappa nel centro Pokémon. Boh, dovrei tipo andare di qua. Eh sì, dovrei tipo... Sì, ma non so come farlo. Suggerimenti? Giusto però non potete darmeli in anteprima. No, che qualcuno mi deve spiegare come faccio a prendere il volo. Eh sì, grazie. Niente. Boh. Proprio niente. Va bene, ci lasciamo qui. Nella prossima parte vedrò comunque come andare avanti. Voi se volete ditemelo in un commento. Così mi aiuterete e mi faciliterete la ricerca. Quindi niente, scusate per l'inconveniente. Ho fatto il gioco di parole. E ci vediamo alla prossima parte. Bye bye.